Ciao ragazzi, sono Latin Hypnotic in the house, Amadussi, Milena Ventre, Veronica Fusco, Matteo Bruno Siamo qui in questo magnifico festival in Belgio, tanta gente, molto divertimento, social, stage, mujeres, show, bella location, fantastico, fantastico tutto Volevo promuovere questo evento, è importante partecipare a eventi internazionali perché si scoprono tante belle cose Lo dito agli amici italiani, uscite fuori dall'Italia, studiate all'estero perché è veramente bello, questo è un evento straordinario Ciao ragazzi, sono Amadussi di Latin Hypnotic e sono molto felice di partecipare a questo fantastico evento Abbiamo già fatto due workshop e un show a mattine, Matteo è qui con me, con la danza Veronica e il show l'anno prima E siamo molto felici perché l'energia che abbiamo ricevuto, è stato davvero incredibile E siamo davvero felici di vedere che il nostro lavoro è apprezzato da persone qui E ho davvero amato a fare questo e ho avuto la possibilità di expressare myself in questo tipo di situazioni Grazie mille e spero di essere qui l'anno prossimo e il prossimo anno e il prossimo anno Grazie mille, Latin Hypnotic, let's go!